L'iscrizione alle prime classi di primaria, medie e superiori si fa online al sito iscrizioni.istruzione.it. C'è tempo dal 16 gennaio al 6 febbraio, ma già da ora è possibile registrarsi per ottenere il codice personale che permetterà di compilare la domanda, che oltre alla scelta della scuola richiederà pure informazioni come il tipo di mezzo di trasporto utilizzato per recarsi alle lezioni, la volontà di usufruire del servizio mensa e altro ancora. Le iscrizioni online sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le paritarie, mentre rimane valida la procedura cartacea per le scuole dell'infanzia. E chi non avesse ancora deciso che istituto scegliere? Nell'area scuola in chiaro sarà possibile visualizzare la localizzazione e i profili dei singoli plessi, analizzando dati importanti per effettuare la scelta, come ad esempio gli indirizzi di studio predisposti, il tasso di alunni occupati dopo il diploma e i piani triennali dell'offerta formativa. Una volta effettuata l'iscrizione, sarà il sistema informatico del MIUR ad avvisare i genitori in tempo reale, via email, dell'avvenuta registrazione e accoglimento della domanda di iscrizione. Per ogni informazione è stata attivata anche una linea telefonica, che si può contattare dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì.